ciao ragazzi ben intrati a questo paese allora siamo qua dovevamo andare ad aprire i cancelli non sono sbaglio bello allora bravo che vogliamo fare? andare di corsa è una cosa ma comportando con noi dei VIP è un altro guarda porteremo alla panchina saliamo qua ok ok vado vado grande grande non è più qua quell'elicottero non mi piace mhm quale elicottero? ah questo non è più verbo ma che dì i dati non parlavano di forze speciali chiedesi vorremmo andare là si dovevamo andare là quanto l'hanno ottimizzato male quanto l'hanno ottimizzato male quanto l'hanno ottimizzato questo gioco era perfetto adesso mi va da schifo mi sono andato qua mi sono andato qua mi sono andato lanciato via e posso usare la scala c'è anche un ospite oggi sì perfetto quelle di qua non mi piacciono eh? si da portare americottero vediamo di fare rilero INоки Si, dai, dai, dai! Non vi dite! Non vi dite. Buona non ta, no? Merda! Ah, io sono già dentro, voi siete ancora in limite, a parte che tipo si trasferiscono, non so come, da qua a qua in parte d'occhio. Eccolo, che stanno arrivando tutti. Vi muovete, qualche boia? Perché sono un miss per... Eh, ecco l'ascensore, l'ascensore è tutto il meglio strumento. Tiiii! Buona. Preparati! Ok, dai Nicola, grazie. Che cazzo sono? Pistole ad acqua? Andiamo all'hotel. Non lo vedo, i VIP sono all'ultimo piano, Skybar, Skybridge, una roba così. Gli Skybar sono sempre sul tetto. Mh, ma la? Devi chiamare la moglie di Dan. Lo so. E' solo che... Mh, boh. Cazzo, chiudi la porta! Ehi, where is it? Via, 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 via! Via, 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 via! Chiudi, 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 chiudi. Ah! Merda! Abbiamo appena impasso la fottuta Cina! Ah! Di lì non si passa. Direi. Abbiamo alternative. No. Non facciamoci ammazzare. Ehi! Bella! Allora, qua io miciavo questa qui. Questa, ritorno a questa. Finita. Guardate! Ma cosa hanno in mente? Questa è una community. Allora, spero di «per17的icas神 11 Ỏ», compare 6 matter數 companies Ma a me se fosse una s Market1, qualgone la, mandata? Pininola a questa la tua Mhm. Di soluzione a questa ora. Dai, некоторые. Guardate! Questa è una mn. Ora ben folla. Lo so di come la chantsina? Alla 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 D'accordo, mi sono rotto il cazzo. Allora. Iniziamo. Che cazzo di mira ho avuto qua. Buone, 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 buone. Allora. L'ho preso. No. Non so se. Dov'è? Allora. Qua. Mi ha matato. Dov'è? Batti un due secondi. Batti. Dov'è? 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 Allora. Grazie. Dov'è? Mi sembra. Mi sembra. Mi sembra. Fa un culo come finita la prenda. Dai dai dai. Stima. Ok. Trrrrrrrr. Ting. Più. Posta. C'è più nessuno? Beh. Allora. Mi sto caso. Ricchiamo. Due proletti in più vanno sempre meglio. Mmh. 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 Non possiamo smetterla di farci sparare il nostro. Beh. Sì. Sì. Ah. 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 Viene il nasa, dove lo siamo. Ah. Non ce ne siamo più? non si credo di sì forza verso la sala VIP ok andiamo quanto manca non c'è come tutto dai vieni qua forza eh ma dai vorrà un secondo no un po' di più forse grazie cazzo va bene va verso il tetto graimor osserva le finestre e stai pronto graimor ho appena piazzata coglione dove? dove cazzo è? in posizione dove? da dove entrano? arriva ah no cazzo via 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 mi chiamiamo che è in punto non trapassa il coso eh faccio prima che posso guarda questa bella poi bella cazzo e dai 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 se vabbè 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 20 antiproiettel finito ma qua è un po' bello grazie tu mi fai in favore? come vai? mi fai in cura e anche tu bello l'ho preso se ne aveva un pezzo ok, richiamo mh, arriva adesso è anche un bel buona, io voglio fornirmi buona eeeh ricaricati ok ok, si matta e si deserlocai hai un colpo in più semplicemente hai già il colpo in canna qua via via, siamo vicini mh, ok siamo vicini godisse che cazzo boh boh maledizione non ci sono superstiti aspetta, addio la parte meno controlla se ti è ritardo non è semplice, ma se ne affanculo, se ti è ritardo per questo risposta puoi spostarti da solo noi e che ti serviamo attraversare la strada non è un'attraversare ci siamo appena sbagliati, capito? forza, dov'è il furcone? eeeh il furcone? non possiamo usare le strade ci sono i cinesi ah, davvero fantastico chi sono questi vivi? sono persone importanti una donna col marito li porteremo fuori sani e salvi vi basti questo sono Anna questo è il mio marito grazie per essere qui chiedo scusa signore scusi signora parlate la nostra lingua state bene potete muovervi? tradotto in italiano sembra oh negativo, niente soste visto degli elicotteri sul tempo andiamo allora saliamo sarà rubiando cosa? voi lo prendete io lo faccio a volare questo è il piano e ti piace o no? o hai idee migliori, sergente? da quando rubiamo gli elicotteri? avete finito? a mio marito servono cure tutta questa violenza dove può portarci? questo non è gioco grazie per essere venuto, sergente sono felice andiamo ora in forza dove ti è allora? giù la testa state giù andiamo ragazze sto qua io ce l'ho già si si ce l'ho già mette 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 assolutamente vediamo avanti vi do altri due minuti semplicemente il fatto che non ti preoccupare bella Altro di là Però queste differazioni Oh Fioi! Ecco ve la regalo Vi piace? A quanto pare no Eh perchè la difenza di altri giochi qua Si scansano se vedono una granata Flashbang! Non vedo un cazzo Bella Eccoti la Pam! Perchè non è una cosa? Uno Due Eh Fioi è abbastanza difficile Non li vedo Adi là Per fortuna che me l'hanno scattato La La Trashbang Preso Andate un attimo Cariciamo intanto Bello Ok Dove siete? Andiamo 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 No Due minuti Allora ragazzi Spero che vi sia piaciuto Se fosse così lasciate un caccio e commentate Quindi vedete Allora Ciao a tutti Alla prossima Allora